Anche il Moscati di Avellino avrà la sua banca del plasma iperimmune per la terapia anti-Covid. La sperimentazione di questa cura, che si basa sull'utilizzo del sangue dei pazienti guariti che hanno sviluppato gli anticorpi, è in corso in diverse aziende ospedaliere del Nord Italia, come pure in quella universitaria di Pisa. E proprio agganciandosi al protocollo regionale toscano, al quale si rifarà quello della Campania, ci sarà anche la città ospedaliera del capoluogo Irpino, collegata al capofila Cotugno di Napoli. Al Moscati, infatti, nel reparto malattie infettive, c'è l'unica clinica per il trattamento e contestualmente il centro trasfusionale che provvederà a prelevare e a rendere disponibile il plasma. Non è semplice, però, individuare i donatori negli ex pazienti Covid. Intanto, bisogna essere realmente e completamente guariti e non accusare più nessun sintomo riconoscibile da coronavirus. Quindi, doppio tampone di verifica negativo e dopo due settimane ancora un altro controllo per accertare il quadro clinico della persona. Solo dopo questa trafila, chi ha superato il virus può diventare donatore. Il plasma prelevato va sottoposto ad un procedimento di inattivazione virale e poi agli esami previsti per scongiurare la presenza di epatite C e B, HIV e sifilide. Naturalmente, fondamentale sarà il quantitativo di anticorpi presenti. Solo un numero sufficientemente alto può garantire la giusta risposta terapeutica. Il lavoro del Moscati si svolgerà a livello dipartimentale per l'area Campania Nord, coinvolgendo anche i centri di Caserta, Averso e Benevento.